si sa nella vita in ogni percorso c'è un inizio e c'è una fine un momento in cui si parte è un momento in cui però bisogna sapersi fermare e questo è il momento benvenuti ragazzi nell'ultima serie che vedrete mai su questo gioco prima che parta nei commenti con disperazioni oppure addirittura godo che stai finendo oppure qualsiasi altra cosa ripercorriamo con calma gli step questo canale parte con qualche video narrato e con le prime serie giocate come l'impero romano fatto dal bizantino nel 1440 o dall'ebesbro nello scenario della germania nazista contro tutti ma prima di quel momento cosa c'era non c'era niente nessuno in italia su youtube si cagava questo gioco la biblioteca di alessandria aveva giusto fatto due mini serie sul sul suo canale ma nessun altro la biblioteca di alessandria a 100.000 iscritti è un canale meraviglioso anzi ne ha molti di più ma ai tempi ne aveva 100.000 joele è uno youtuber molto capace di fare contenuti ovviamente non mi protagonere mai a questi mostri sacri di questi giochi o comunque della storia narrata perché ha fatto sicuramente delle serie molto valide fatto sta che io ho preso in mano un gioco morto in italia che nessuno si considerava più e in questi anni quasi 4 ad aprile 2021 25 sono 4 anni dal primo video del canale che questo gioco è comunque stato portato a più o meno frequenza dal sottoscritto da quel momento in poi age è tornato un po di moda fino all'uscita di age 3 e qua c'è il colpo di scena che non vi aspettereste mai perché infatti non porterò age of civilization 3 sul canale in questa fase il gioco è ancora in fase di sviluppo l'ho provato non mi piace moltissimo vi dico la verità specie per il tipo di contenuti che volevo realizzare e allora cosa significa che tutto finirà qua con quest'ultima serie no significa che age of civilization 2 morirà e o meglio andrà in pensione dopo questo video dopo questa serie ma age of civilization 2.5 la mod di dart girashia tnt fire youtube diventerà il nostro nuovo gioco di riferimento a livello di gameplay non cambierà moltissimo o forse si non vi spoilerò niente se non quello che già vi ho detto nel video di riferimento che parla appunto della mod lo trovate in descrizione o comunque se cercate lo trovate di sicuro ciò che cambia sarà sicuramente un gioco più bello di age 2 non complesso come age 3 così da facilitare anche al pubblico la fruizione di un contenuto alla portata non troppo complesso se no mi mettevo veramente a fare earth sovairon 4 che tutti ovviamente mi chiedete da quattro anni a questa parte ma la cosa che più ci interessa è che age 2 finirà come era iniziato con una serie copertinata da me come giusto che sia per dare il giusto il giusto compenso a questo gioco con quale serie partiamo dopo una intro di 3 minuti e 14 non a caso le cifre del pi greco partiamo con qualcosa che di greco ha ben poco partiamo con l'impero romano quello vero però e quindi direte voi è quello d'occidente o quello d'oriente l'impero vero sono lieto di dirvi che è quello di occidente ma anche quello di oriente ragazzi benvenuti nella partita dove giocheremo con due stati contemporaneamente non mi ne pento andiamo a personalizzare per l'ultima volta le impostazioni ma direi che una difficoltà estremo può bastare per quest'ultima serie o facciamo difficile no facciamo difficile ma non per la difficoltà ma perché voglio che venga una serie abbastanza veloce senza troppe complicazioni o meglio non credo succederà mai quindi sapete cosa mettiamo estremo che è meglio siamo fortissimi per il resto tutte le info sono state messe ragazzi benvenuti nell'ultima serie la serie dei due imperi romani l'obiettivo dello stato pontificio è riunire tutti i territori che si trovano da questa parte noterete tra l'altro che non ho scelto tutti magari territorio ne ho messi di altri ho cambiato qualcosa perché mi sono basato su civiltà attuali del del gioco del 1440 quindi magari ci saranno popoli in più o popoli in meno ma volevo dare un senso comunque l'obiettivo sarà quindi prendere tutti i territori di francia spagna parte della germania gran parte del regno unito l'italia e gran parte dell'africa per quanto riguarda la nostra controparte l'impero bizantino l'obiettivo sarà riunire tutti i territori dell'impero romano d'oriente per comodità mi sono fermato all'ungheria però ho messo anche territori extra più tutti questi alla fine il mare nostrum lo creiamo quindi meglio così partiamo quindi col nostro effettivo primo turno ci fa di fare tattiche con entrambi gli stati prima di tutto però mandiamo un insulto a urbino in modo tale poi da potergli mandare un ultimatum tra poco ma prima pensiamo a noi anche qua c'è da sistemare i punti come da tradizione li dividerò un po sparsi tranne la colonizzazione che credo non ci servirà portiamo tutta 8 e per il meme due punti alla colonizzazione li diamo sistemiamo ovviamente non mi sono dimenticato come si gioca le tasse leggermente più alte della media tutto al 20 per cento si si può fare credo che vada bene e ora attendiamo tornando qua dobbiamo ancora sistemare le cose quindi iniziamo a dare gli 8 punti a tutte le varie categorie che servono 8 8 8 8 8 mi sono fatto male conti beh qua sono 7 si vede che lo stato pontificio è messo un po peggio andiamo a ridare 20 per cento a tutto e che ancora siamo nel turno in cui non è possibile fargli l'ultimatum costituiremo gli vari imperi tornando qua dobbiamo adesso attendere aspettare e soprattutto sciogliere l'esercito perché ci darà più soldi per turno tornando qua sciogliamo l'esercito pure e aspettiamo vi ripeto all'inizio magari sarà un po contorto però fidatevi dobbiamo aspettare in questa fase richiediamo l'annessione oppure verranno ammessi da un esercito provvisorio che già so anche peraltro schierando a siena qua possiamo reclutare 2005 ma sono pochi quindi chiediamo all'annessione al nostro vassallo qua aspettiamo annessione fatta rimini è stata conquistata adesso abbiamo 15.000 monete quindi 3.000 truppe dalla nostra usiamole da questa parte invece so che all'inizio magari potreste esaurire ma fidatevi in questa prima fase è così che deve andare tra l'altro i turni stanno scorrendo dichiariamo guerra ad atene e attacchiamoli attenzione perché nel frattempo non mi aspettavo una reazione così grande di atene quindi dobbiamo tornare indietro purtroppo per noi chiedergli due debitoni mi sa proprio di sì schierare 1200 truppe e andare di là di là dove bisogna aspettare o agire se sciolgo l'esercito il bilancio aumenta ma sapete che vi dico per ora temporeggiamo con queste ulteriori truppe io aspetterei e poi riattaccherei ha funzionato buono possiamo se il gioco smette di farmi restringere il campo tornare qua e chiedere una pace ad atene dopo di che sciogliamo l'esercito ovviamente che non ci serve più benissimo con le 3.000 monete che abbiamo possiamo aumentare l'esercito ma sì dai ci voglio provare abbiamo fatto quel che dovevamo fare ora dobbiamo aspettare un pochetto prima poi di attaccare gli stati amici di venezia siena la attacchiamo però non muoviamo noi le truppe aspettiamo vediamo se loro ci attaccano sì ci hanno attaccato ma non lo hanno fatto con abbastanza truppe secondo me quindi può andar bene è andata bene perfetto non capisco perché stia esaurendo così tanto visto che quando l'ho provato andava bene ma fatto sta che adesso l'impero bizantino un po reclama conto ma conto noi non gliene daremo sono già passati 20 turni con queste truppe potremmo già pensare di prendere qualcuno ma in realtà non conviene farlo subito sciogliamo quindi gli eserciti e andiamo sì diciamo contemporaneamente dovremmo focussarci su due missioni diverse e con mille truppe non possiamo prendere né candia e né nasso quindi per ora attendiamo con entrambi facciamo passare un po di turni scusate per l'esaurimento che vi sto causando ma è necessario in questa fase tornando di qua rimini chiede di nuovo conto e soddisfazione al che il prossimo stato che vedrà effettivamente un'azione d'attacco è l'impero bizantino contro candia e nasso motivo per cui aspetterò ulteriormente degli altri turni perdonate per la diciamo epilestie che vi ho causato reclutiamo le nostre 3000 truppe qua forse possiamo già mettergliene abbastanza ma attenderemo la fine di quodesta campagna per attaccare mettiamo le truppe qua a mare due turni di attesa e quindi significa anche che sono arrivate dichiariamo guerra a nasso però sapete la parte divertente quale potrebbe essere che se prendessimo ferrara potremmo effettivamente attaccare venezia prima se quindi ora noi aspettiamo a rimini mettiamo tutte le truppe del caso mettiamo tutto qua tornando ovviamente dove dovevamo tornare attacchiamo ferrara attendiamo di attaccare ferrara per meglio dire aspettando che loro magari ci attacchino non hanno niente possiamo andare purtroppo avevano è più di qualcosa ci tocca tristemente riandare di debitone per difendere i confini qua aspettiamo fidatevi fidatevi di me che non sbaglio andiamo ad attaccare con tutte le truppe che abbiamo prepariamo una scorta che servirà probabilmente no è bastato sì devo dire che questa serie magari può sembrare un po più difficile da seguire specialmente per questi continui cambi però fidatevi che viene carina ok praticamente la mappa la devo tenere sempre un po dezoomata per evitare questi sbalzi si è così che così ok alla memoria siamo con l'impero bizantino pronto ad attaccare ma ciò che ci importa di più che ci ha dichiarato guerra alla dinastia afside questa non me l'aspettavo vi dico la verità dovrei chiedere la pace alla dinastia afside vediamo se l'accettano no non l'accettano mi toccherà combattere con loro quindi l'obiettivo dichiarato carino non lo posso più fare per ora andiamo nel nostro impero bizantino e attacchiamo nasso e attacchiamo anche no non serve attaccare candi in realtà così fatto sta che attacchiamo qua sono tutti tranquilli e noi attendiamo torniamo indietro siamo di nuovo con l'impero romano siamo tornati con i bizantini prendiamoci la nostra cara città qui torniamo e qua torniamo candi alla possiamo di attaccare e lo faremo prendiamo le truppe e attacchiamo metà qua e metà qua purtroppo non è bastato ciò ma nel frattempo dovremmo pensare alla dinastia afside che è più forte di noi no ha più province di noi sì quindi una pace comunque conviene farsela ora andiamo a reclutare delle altre truppe ad atene con coscrizione perché abbiamo urgenza di farlo e mettiamole a mare devo dire che sono molto ben armati i nostri nemici da bisanzio da qua invece non c'è granché da fare anzi volendo c'è qualcosa da fare possiamo assimilare bologna e siena per il resto qua siamo pronti a lanciare un altro attacco ci dichiara guerra venezia giusto effettivamente non avevo pensato al fatto che venezia adesso ci vorrà uccidere per aver attaccato il suo amico alleato ma non lo farà perché noi gli chiederemo un buon trattato qui attendiamo mentre già la geopolitica cambia ci andiamo a prendere i nostri cari territori qua sotto e c'è dichiarato guerra l'impero ottomano attenzione questa è una brutta notizia e quindi dinastia fside levati dal mezzo come faccio a contrastare l'impero ottomano quella volta ho chiesto aiuto ai mammelucchi volendo posso fare la stessa strategia dell'altra volta in questo momento chi ho come è stato mio l'impero lo stato pontificio scusate ma ho schierato truppe qua no com'è che ho così poche monete a giusto perché ho assimilato prima me l'ero scordato dobbiamo aspettare qua mentre con qua per quanto riguarda purtroppo l'impero ottomano che ci ha fatto guerra la pace è andata a buon fine ma abbiamo un altro problema dobbiamo andare a chiedere ai nostri amici di dichiarare guerra all'impero ottomano dobbiamo chiedere anche all'albania venezia no mi fanno antipatia dobbiamo chiedere a tutti i vicini di dichiarare guerra all'impero ottomano con cui forse mi doveva alleare tutti 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 posso chiedere ad altri tre di intervenire lo facciamo fare anche a a coi un q richiesta di commercio dichiara guerra agli ottomani e infine al bellicato di camaranne che è stato molto importante nelle serie passate dopo che tutti hanno dichiarato guerra all'impero ottomano ci conviene un attimellino difenderci sciogli esercito no non posso mentre loro ci attaccano adesso pagheranno per le loro azioni la dinastia afside sta per arrivare occhio e quindi noi dobbiamo pazientare un momentino nel mentre tutti hanno dichiarato guerra all'impero ottomano mancano i dulca di ridi che bello questi nomi sono meravigliosi dichiara guerra all'impero ottomano e l'impero di trebisonda sì dai facciamola completa che è meglio qui sciogliamo il nostro caro esercito qua programmiamo una linea pesante di resistenza gli afsidi stanno per attaccarci qua dovrebbero bastare le truppe messe in difesa e purtroppo stanno bastando sì ma almeno l'impero ottomano sta venendo mega attaccato un po da chiunque facciamo una cosa guardate prima che poi rischio troppo passiamo a bisanzio come giusto che sia prendiamoci finché possiamo ripeto poi li ripagheremo subito 1 2 3 4 e 5 debitoni schieriamo tutte le truppe non possiamo lo faremo al prossimo turno qui non rimane niente da fare qua non posso reclutare perché non tocca a me schieriamo tutte le truppe qua dove possiamo schierare truppe istambul l'abbiamo persa vabbè non schieriamo tutte le truppe che situazione mannaggia possiamo solo assimilare dobbiamo attendere qua gli afsidi hanno mega failato forse possono chiedere una pace mentre l'impero ottomano sta venendo totalmente annientato questi rifiutano la pace ma noi non possiamo farci granché dobbiamo aspettare che l'impero ottomano venga totalmente distrutto purtroppo sì e vabbè ragazzi è l'unico modo ho messo una difficoltà alta e in questa serie è l'unica rogna che c'è migliorando la relazione quindi ora me l'accetti una pace giusto no non vogliono far pace con me al che sapete cosa vi dico io la dinastia afside ci ha fatto questo torto e proviamo a metterci in una posizione intimidatoria attendiamo mentre qua che è successo mentre l'impero bizantino è stato riassegnato a me quindi prossimo turno posso far qualcosa così per il me proviamo ad attaccare l'oro sì dai mettiamo con tantissima codardia 14 truppe qua e 14 truppe qua e purtroppo l'attacco è andato male che palle e dovremmo aspettare un po allora impero ottomano che a quanto pare non ci sei più facciamo la pace e dai ci sto qua dobbiamo attendere ancora abbiamo fatto pace con tutti l'impero ottomano è stato mega smembrato e ora possiamo prenderlo anche noi e noi in questo primo episodio più strano di non so cosa ci salutiamo così provando a fare pace con l'impero afside e chiudere quindi l'episodio niente salviamo qua la partita riassunto di questo primo pazzo episodio salva il gioco sì gioco salvato ok in questo primo pazzo episodio abbiamo iniziato a prendere territori con lo stato pontificio ma l'impero ottomano ha deciso di attaccarci motivo per cui ci siamo dovuti difendere dieci province ce l'abbiamo noi dieci province l'abbiamo noi l'obiettivo è glorioso ma c'è tempo per realizzarlo mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanellina per seguire le novità lasciate tanti tantissimi piace passate dal server discord e dal canale twitch detto ciò per questo clamoroso video l'ultimo di questo gioco è tutto noi ci vediamo con un prossimo video